scientificast il podcast che ho ascoltato da chi cucina solo col microonde episodio 289 benvenuti a un nuovo episodio di scientificast in questo episodio vedi quante volte si può dire episodio andrea esatto all'inizio di un episodio in questa puntata ci siamo io e simone che sono tornato dopo tantissimo tempo e tu andrea che ormai ti stiamo rifilando tutti gli episodi magari proprio tutti tutti no però in effetti facevo caso che direi che l'ultimo episodio che abbiamo fatto insieme è tipo il 202 davvero è passato così tanto tempo non lo so però potrebbe essere 6.000 anni io ci credo io credo a tutto quello che tu dici tranne a quello che non dici e qui rientriamo nella filosofia non so se è possibile tutto questo comunque insomma cercherò di dire solo cose vere allora esattamente giusto per non sentirti in colpa va bene va bene bentornati buon anno da parte mia perché non ci siamo ancora sentiti all'inizio dell'anno nuovo ed è un anno bellissimo andrea che è iniziato proprio in maniera fantastica ah sì soprattutto in cina soprattutto in cina dove sentivo oggi 56 milioni di persone in quarantena praticamente hanno un l'italia in quarantena ma come fanno a gestire una quarantena del genere cioè anche anche logisticamente fastidiosa come cosa cioè non solo per le persone che sono bloccate ma anche per chi deve gestire 56 milioni di persone bloccate io non lo so cioè non ho mai avuto granché a che fare con cinesi per ragioni di lavoro quindi non so come lavorino in senso stretto ho visto come lavorano i giapponesi e diciamo altri anche i coreani cioè gli estremo orientali hanno delle capacità che per noi sono aliene ci stanno dicendo che vogliono tirare su un ospedale da 1300 posti in sei giorni no beh cavolo come fanno qui in liguria quando cadono i ponti più o meno i tempi di ricostruzione sono simili assolutamente sì in sei giorni ci accorgiamo che il ponte è caduto esatto penso che c'è una cosa è successo qualche tempo fa non mi ricordo mesi fa che tipo tra il casello di busalla e quello di arquata scrive cioè non lo so dei posti del genere insomma c'è una frana e c'è un cartello di segnalazione frana da tipo sei mesi quindi mi immagino i poveri sgraziati che dovevano uscire lì a quell'uscita lì e c'è la frana da sempre con la freccia messa esatto farebbero prima a fare così sarebbe la soluzione giusta anche perché fare il giro dall'altra parte secondo me ti porta via la vita cioè c'è gente che sta arrivando adesso per il cerno di natale probabilmente beh dai pensa quanto sono dimagriti evitando o quanto non sono ingrassati evitando di mangiare troppo a natale quindi è per il bene dell'umanità ci sta mi piace un lato positivo basta cercarlo con accuratezza mi piace questo ottimismo comunque mercoledì noi stiamo parlando di questa cosa in maniera pretestuosa perché in realtà mercoledì ci troviamo cioè trovate me valeria e giacomo moro maoretto su twitch non perché ci siamo coinvolti convertiti a twitch perché onestamente che cos'è twitch io non ho idea nessuno ha idea di cosa sia twitch allora twitch è una piattaforma che permette di fare delle live sostanzialmente siccome in molti ci avete chiesto di parlare di coronavirus abbiamo valutato che però fare una puntata speciale dedicata al coronavirus sarebbe stata un po stucchevole perché comunque le notizie sono sempre in aggiornamento e anche valeria ha fatto notare che fai uno speciale oggi domani è vecchio fondamentalmente quindi ha poco senso fare un'ora di speciale di puntata speciale quando poi la settimana dopo dobbiamo rifarla visto che c'è tutto questo interesse però la cosa migliore è stata che abbiamo pensato è quella di joinarci che è un termine giovane a quest'altro gruppo di persone che fa live scientifiche su twitch e che quindi così possiamo fare una sera una live insieme praticamente così infilandoci a gamba tesa questo è molto interessante anche perché insomma i giornali come sempre fanno fatica a seguire questa cosa fanno fatica ad approfondirla veramente nei tempi tipici del giornalismo quindi insomma è una cosa che in qualche modo chi si ricorda come me bene la sars una dozzina d'anni fa poi ha un impatto su tante cose ancora stamattina sentivo per radio che la borsa cinese ha sta subendo una grossa ripercussione a causa di questa di questa epidemia quindi diciamo non è soltanto una questione medica clinica è una questione sociale molto grande quella che quella che ci troviamo ad affrontare e diciamo ovvero un'informazione un po più dettagliata è un po più comprensibile anche perché appunto non sempre è facile tirare fuori ciò che è davvero rilevante da dalle informazioni che circolano su una cosa così lontana per certi versi ma anche già vicina tre casi in francia quindi insomma non è più una una cosa locale di un certo territorio insomma assolutamente sempre sembra sempre lontano invece effettivamente è abbastanza concreta la cosa va bene ne parliamo allora con valeri e giacomo mora moretto ci sarò anch'io su twitch il canale si chiama science stream quindi scritto come science e stream scritto come stream lo trovate su twitch e niente ci vediamo lì alle nove e mezza quindi poi faremo un po' di annunci social e basta ok potete potete interagire in chat la cosa figa di twitch è che potete parlarci in chat e noi ovviamente possiamo comunque sempre rispondervi male oppure semplicemente non accorgervi della chat che sta blinkando nell'angolo quella quella è difficile guardando da un'altra parte è abbastanza invasiva poi siamo in tre quindi riusciamo a vederla sicuramente va bene fatevi questa esperienza magica mercoledì sera ok direi che possiamo passare al clou dell'episodio iniziando subito a parlare di un argomento molto diverso rispetto a quello di cui abbiamo parlato finora la malaria che praticamente cioè non è un virus ma no però comunque esatto comunque male ti fa male e questa volta è il primo servizio esterno del nostro nuovo socio luca e quindi ascoltiamo com'è andata salve a tutti e benvenuti a questo intervento esterno sono luca da londra e sono qui con una mia collega postdoc all'imperial college di londra la che lavora nel gruppo del professore andrea grisanti in particolare oggi andiamo a parlare con federica bernardini di malaria si è parlato varie volte di malaria nel nostro podcast ma in particolare federica ci andrà a parlare di un progetto di cui lei fa parte che è chiamato target malaria che si occupa di nuove frontiere e tecnologie per sconviggere la malaria ciao fede dici qualcosa di te e parlaci di questo progetto target malaria ciao luca e salve a tutti l'introduzione l'ha già fatta tu parlo troppo io lavoro da qualche anno da otto nove anni credo nel laboratorio di andrea crisanti qui all'imperial college ho avuto la fortuna di far parte di questo consorzio che è chiamato target malaria target malaria è un consorzio di ricerca senza scopo di lucro che è stato fondato nel 2005 che nasce dall'esigenza di trovare una soluzione per sconfiggere la malaria una malattia che oggi causa mezzo milione di morti all'anno specialmente bambini lo scopo del consorzio è quello di sviluppare nuove tecnologie economiche sostenibili che mirano ridurre la trasmissione di malaria e magari in modo sinergistico con altre misure di controllo eliminarla del tutto il consorzio principalmente finanziato dalla fondazione bide melinda gates è nato come un programma di ricerca su base universitaria successivamente il progetto è cresciuto così tanto da richiedere l'ingobblamento non solo di scienziati ma di esperti nell'ambito della comunicazione management ecologia modeling risk assessment e così via quindi un progetto che di cui non fa parte solo l'imperial college come istituzione o è solo un progetto che ha come che fa capo come istituto come appunto base alla ricerca fondamentale solo nel oggi il team è composto da più di 200 professionisti che vivono in africa nord america europa quindi ognuno si occupa di un aspetto diverso del progetto ma tutti insieme collaboriamo con il fine ultimo di sconfiggere la malaria e da qui ovviamente la domanda mi calza dico quali sono quali sono i vostri metodi come pensate di poter sconfiggere la malaria la malaria è causata da un parassita che si chiama plasmodio e questo parassita viene trasmesso dalla puntura di una zanzara infetta tieni presente che quando vieni punto da una zanzara si tratta sempre di una zanzara femmina e infatti il sangue non rappresenta il cibo per le zanzare ma invece necessario per lo sviluppo delle uova e siccome sono le zanzare femmina a deporre le uova solo dei zanzare femmina necessitano di sangue e quindi pungono e trasmettono la malaria la strategia del consorzio è quella di ridurre la malaria attraverso la riduzione del numero di zanzare che trasmettono la malaria considera che ci sono più di 3500 specie di zanzare al mondo 837 in africa e solo tre sono quelle responsabili della stragrande maggioranza dei casi di malaria queste specie che si chiamano opheles gambie coluzzai and arabiensis sono il bersaglio della nostra tecnologia quindi a discapito diciamo di quello che si pensa non tutte le specie di zanzara sono portatrici di malaria assolutamente in particolare quindi il plasmodio risiede all'interno delle delle zanzare di questi tipi di zanzare viene trasmesso tramite la puntura perfetto e quindi appunto come è possibile portare se sono le zanzare femmine ovviamente quelle che trasmettono la malattia e di conseguenza il plasmodio la tecnologia mira a ridurre il numero delle zanzare femmine o diciamo qual è e come avviene praticamente questo tipo di questa riduzione delle zanzare beh per fare questo noi utilizziamo l'ingegneria genetica e in particolare degli strumenti che in laboratorio ci permettono di modificare il dna di queste zanzare il dna delle zanzare come negli altri esseri viventi è composto da unità che chiamiamo geni e questi geni conferiscono delle proprietà come per esempio per fare le cose un spettino facili per chi non è io io non sono del campo quindi parlando con me farli come una persona non esperta allora immagina il dna di ogni essere vivente e quindi anche delle zanzare è costituito da queste unità che chiamiamo geni e questi geni conferiscono delle proprietà come per esempio la forma dell'ala o il numero delle zampe e così via l'ingegneria genetica ci ha permesso di inserire stabilmente nel dna di queste zanzare dei geni estrani che chiamiamo transgeni che conferiscono a queste zanzare geneticamente modificate nuove proprietà per esempio siamo in grado di inserire un transgene nel dna di queste zanzare che produce un enzima in grado di riconoscere e distruggere un bersaglio nel dna delle zanzare i bersagli a cui siamo interessati sono quei geni che in qualche modo possono condurre a una riduzione delle zanzare che trasmettono la malaria perché questo come abbiamo detto è l'obiettivo certo quindi in una delle nostre strategie cosa abbiamo fatto abbiamo bersagliato quei geni che hanno a che fare con la fertilità delle zanzare femmina ma che non sono coinvolti nella fertilità dei maschi di andare a ridurre il problema alla radice come si suol dire esatto cosa abbiamo fatto in laboratorio abbiamo usato maschi che hanno questo transgene quindi che conferiscono questa proprietà che va ad intaccare la fertilità delle femmine e li abbiamo rilasciati in piccole gabbie contenenti zanzare simili a quelli africani quelle che trasmettono la malaria dopo solo poche generazioni la sterilità trasportata dai maschi ma che solo si manifesta nelle femmine si è diffusa tanto da portare al collasso della popolazione di zanzare al momento stiamo studiando l'efficacia di questa tecnologia in gabbie molto più grandi che più si avvicinano alle condizioni naturali e se questo test come tanti altri test verranno superati un giorno questa tecnologia potrebbe essere implementata in quei paesi affetti da malaria benissimo prima hai parlato di alcune generazioni solo poche generazioni di zanzare giusto per dare un'idea dei tempi cosa si intende per una generazione di zanzare una generazione negli uomini sono 20 30 anni una due belle zanzare quanto sarà una generazione mi rendo conto che non è giusto per darvi un tempo non molte persone hanno un'idea di quanto arriva una zanzara in laboratorio tu puoi fare puoi mantenere una zanzara per più o meno un mese però quando ti sposti nel nell'ambiente quindi condizioni naturali la vita di una zanzara è decisamente inferiore e quindi ok quindi l'ingegneria genetica è quello è la chiave ma è quindi questa della mutazione di quella la modificazione di questi geni è ciò che permette di poter raggiungere lo scopo ma come praticamente in buon appunto riparliamo dal punto di vista scientifico quindi cosa succede cosa qual è la tecnica che si impiega allora come detto tu quello che noi abbiamo trovato è un modo per interferire con la fertilità delle femmine e ridurre il numero delle zanzare questo non è abbastanza se pensi al goal finale che sarebbe quello di utilizzare questa tecnologia nei paesi affetti di malaria ma sicuramente avrai sentito parlare di gene drive diciamo che ne abbiamo parlato varie volte in trasmissione le nostre colleghe biologhe sicuramente ne hanno parlate tante volte ok questo è un gene drive il gene drive è una tecnica di ingegneria genetica che consente la propagazione di un gene o di un transgene se vuoi a una frequenza che è molto più elevata di quella normale quindi normalmente in accordo con le leggi del caro Mendel del vecchio Mendel sì un gene ha il 50% di probabilità di essere trasmesso da un genitore a figlio ma se viene guidato con un gene drive questo gene può essere ereditato fino a quasi il 100% quindi noi cosa abbiamo fatto? abbiamo usato un gene drive per propagare il transgene che determina sterilità nelle zanzare femmina e la sterilità si è diffusa così velocemente tanto da far collassare la popolazione di zanzare in laboratorio solo in poche generazioni ora la possibilità di interferire con la fertilità di queste zanzare femmina e di farlo in modo veloce grazie al gene drive rende la nostra strategia autosufficiente relativamente economica e sostenibile perché le zandare fanno il lavoro da sale quindi in pratica giusto per avere qualche altro dettaglio riguardante il gene drive tu hai detto che ovviamente per le leggi di Mendel che più o meno abbiamo quasi tutti sentito parlare la storia dei piselli rugosi eccetera odorosi e tutti verdi gialli e trasmissione 50% quindi amplificare fino al 100% cioè quindi è una sorta di amplificazione di questo tipo di gene è un modo per aggirare le leggi di Mendel ti faccio un esempio veramente molto banale che probabilmente non userei in una conversazione tra scienziati ma siccome il goal è far capire alla gente userò un esempio molto semplice immagina una coppia un uomo e una donna che hanno un bambino perfetto ok e che hanno delle differenze caratteristiche per esempio il colore degli occhi il colore dei capelli o certi tratti somatici allora puoi immaginare come la famiglia dell'uomo o della donna quando il bambino nasce comincia a dire ha preso dal padre ha preso dalla madre ovviamente ovviamente un carattere e di nuovo torniamo a Mendel ha il 50% della possibilità di essere ereditato quindi per qualsiasi caratteristica il bambino di una coppia avrà il 50% di probabilità di prendere quel carattere ereditare quel carattere dal padre o dalla madre ora questi gene drive raggirano le leggi di ereditarietà di Mendel mendeliane nel modo in cui un carattere non ha più di nuovo la possibilità di essere trasmesso al figlio del 50% va del 100% quindi se per esempio una coppia ha un bambino adesso il bambino non ha più la probabilità del 50% di avere gli occhi blu o marroni ma in questo caso siccome tu hai guidato quel carattere selettivamente deve essere espresso allora la probabilità del bambino di avere gli occhi blu per esempio sarà quasi il 100% quindi ha raggirato le leggi di segregazione mendeliana e fatto in modo che quel carattere sia la frequenza di eredità di quel carattere sia decisamente più elevata del normale il 50% benissimo vedete lì che queste ripeto parlando con me se io riesco a capire possiamo riusciamo a capire tutti perché io sono un chimico quindi non ho alcuna esperienza in questo questo è un vantaggio grandissimo perché quando parliamo di zanzare della possibilità di strategie contro la malaria se tu trovi un modo per ridurre la popolazione delle zanzare in gabbie di laboratorio ma potenzialmente anche in natura e se hai la possibilità se aggiungi a questa a questo approccio la possibilità di fare in modo che questa trasmissione di questa nuova proprietà interferenza con la fertilità della femmina venga ereditata in modo più frequente allora è una tecnologia che funziona che bersaglia un gene che funziona e il gene viene bersagliato in un tempo molto minore di quello che normalmente dovrebbe essere richiesto una domanda se mi è venuta sulla awareness le popolazioni africane sono consapevoli assolutamente dei rischi anche dal punto di vista scientifico persone che vengono in Africa per portare esperienza o modi per poter combattere sin dall'inizio noi abbiamo sempre avuto un rapporto molto trasparente anche di collaborazione con la gente del posto quando ho detto che Target Malaria all'inizio è nato come un programma di ricerca in ambito universitario ma poi il progetto è diventato così grande da richiedere l'ingobblamento di altre figure e tra queste figure ti faccio giusto un esempio per farti capire alcune persone non sanno come stanno le cose dietro le quinte perché chiaramente non hanno accesso a questi luoghi ma io ho passato un po' di tempo in Africa in uno dei posti dove noi speriamo un giorno di implementare questa tecnologia in Burkina Faso tra le persone che fanno parte del Target Malaria ci sono quelle persone che hanno a che fare con la comunicazione ma comunicazione a tutti i livelli anche a livello dei villaggi a volte è difficile spiegare a persone che vivono in villaggi africani e non hanno accesso a mezzi di informazione un computer internet o giornali cos'è una zanzara transgenica perché se lo chiedi a qualcuno anche se è uno scienziato tu puoi avere un'idea ma se lo chiedi a persone che vivono in villaggi remoti in Africa non è così intuitivo è veramente difficile da capire cosa sta dietro ed è questo il motivo per cui noi abbiamo delle persone all'interno del consorzio che si occupano di tradurre se vuoi in modo più semplice grazie all'uso anche di cartoni animati animazioni o anche teatro in alcuni casi di tradurre in modo molto semplice questo linguaggio difficile c'è un continuo quindi anche voi fate divulgazione è un'altra è il cardine della questa è una parte non è è una parte fondamentale è una parte fondamentale perché devi avere l'approvazione della comunità certo per fare in modo che tutto possa effettivamente andare a buon fine devo dire che da quel punto di vista il consorzio sta facendo decisamente è un ottimo lavoro vi faccio un'altra domanda personale allora tu lavori con l'ingegneria genetica il tuo lavoro è l'ingegneria genetica che cos'è dal tuo punto di vista quali sono le tue idee riguardanti l'ingegneria genetica quali sono l'ingegneria genetica rappresenta una straordinaria e promettente opportunità per combattere malattie che come nel caso della malaria hanno afflitto l'umilità da tempo in memore tuttavia è uno strumento relativamente nuovo e per questo le applicazioni di questa tecnologia devono essere valutate in modo responsabile e scrupoloso ovviamente facciamo quello che stiamo cercando di fare ovviamente non siete gli unici da altri gruppi di ricerca l'ingegneria genetica al momento è diventata qualcosa di veramente comune quindi per eliminare diciamo dalla mentalità comune che si va ad interferire con la vita o con altri tipi di con la vita in generale comunque Fede io ti ringrazio tanto grazie per questa conversazione sarà veramente ti ripeto io da posso dire da uomo della strada da persona che non è competente di questo campo mi ha insegnato tantissimo grazie per questa opportunità e io do la parola allo studio e ci vediamo per una prossima volta ciao a tutti grazie a tutti e grazie a te Luca ciao ciao grazie a Luca per questo servizio che immagino avrà vissuto con un po' di ansia perché gli abbiamo fatto un sacco di raccomandazioni tieni il microfono vicino attenzione ai livelli occhio che l'ospite non sia troppo basso rispetto a te insomma gli abbiamo fatto mille raccomandazioni quindi deve aver vissuto un quarto d'ora di panico ovviamente ma è giusto così insomma penso che i centurioni romani quando iniziavano avevano il problema dei nonni nella caserma che li prendevano in giro perché erano appena arrivati quindi un po' di sano e quindi bullismo noi novelli impero romano noi novelli anziani diciamo più che altro ok perfetto stai dando dei vecchi pensavo che stessi dando dell'impero romano invece mi stavi solo dando del vecchio questo è una cosa che facciamo sempre tra l'altro quindi ormai dovresti iniziare ad esserci abituato se lo facciamo da talmente tanti anni di darti del vecchio esatto ma non sono abituato alle cose così orribili come voi che diciate alle persone orribili come voi ma a proposito di cose orribili in realtà noi adesso parliamo di cose che schiferanno un po' tutti perché facciamo un po' di scienza in cucina assolutamente sì non ci sono né Ilaria né Silvia quindi poi saremo anche uccisi per questo questa usurpazione sì anche perché comunque loro però possiamo giustificarci sul fatto che loro così tanto schifo non avrebbero fatto secondo me Ilaria potrebbe potrebbe invece essere una persona di quelle che assaggiano qualunque cosa ah ok ok quindi parliamo di cibi schifosi beh no parliamo di cibi strani dal mondo strani sì cioè schifosi non schifosi nel gusto perché poi si scopre che sono buonissimi in realtà schifosi al concetto allora tanto per cominciare tu hai mai mangiato delle cose che riterresti molto molto strane no allora in realtà io ogni tanto ci penso anche perché ogni tanto mi trovo a chiacchierare o a cena con Luca Perri che è un'esperienza mistica perché lui mangia di tutto diciamo che in qualche maniera voglio dire anche Luca Perri come me ha un physique durol che prevede un'assunzione costante e in qualche modo diciamo continuativa di calorie altrimenti questo physique si perde quindi non è che può insomma magari vai in un posto strampalato un giro per il mondo non è che può pensare di non mangiare soltanto perché ci sono delle cucine un po' troppo esotiche insomma altrimenti esatto quindi lui lui mangia di tutto io mi sento in colpa perché in realtà io sono all'esatto opposto cioè io mangio solo praticamente della mia zona cioè nel senso non mi è mai capitato di mangiare insetti non mi è mai capitato di mangiare cose particolarmente strane voglio dire anche se molto spesso mi chiedo quanto questo sia giusto cioè mi fanno schifo le altre cose però se pensi i gamberoni voglio dire sono tutto meno che belli da vedere è più bello un gamberone di un ragno un giorno tanti anni fa parlando con un collega coreano era poco dopo che la Corea del Sud ci aveva eliminato a dei mondiali di calcio quindi insomma era un momento un po' difficile con quel terribile arbitraggio di Moreno lo ricordo un po' difficile nei rapporti insomma anche questioni di ambasciatori c'era stato un po' di maretta insomma a rischio la terza guerra mondiale ma parlando c'era stato anche nelle Radio Chronic della Jalapas Band si parlava tanto del fatto che mangiavano i cani che è una cosa che a noi fa molta impressione e gli avevo detto se veramente questa cosa succede e gli ho detto no sì cioè soltanto molto raramente in diciamo alcuni particolari ristoranti ogni tanto fanno una serata speciale ma è una cosa che si sta perdendo perché in qualche modo è diciamo sta diventando sempre meno socialmente accettabile e comunque anche voi italiani mangiate un sacco di cose strane tipo cosa diceva per lui cosa era strano anche l'ho guardato e ho detto ma non so cosa tipo le lumache ah è vero le lumache sono effettivamente una cosa abbastanza strampalata le chiocciole più propriamente sia quella di terra sia di terra che di mare comunque io ho mangiato entrambe però ammetto di aver mangiato entrambe sono buone quelle di mare mi piacciono di più però oppure le rane anche mangiate anche quelle allora vedi che non sei così rompiscatole come dici e poi perché sono della mia zona perché ci sono cresciuto fra rane e lumache e riso quindi le rane altra cosa che secondo lui era abbastanza tremebonda e in effetti conosco anche tanti italiani che non mangiano né rane né lumache ma la terza cosa ma è tremebonda le rane sono senza senso ma a me piacciono che ha citato sono le seppie ah ma perché loro non le mangiano se tu le guardi diciamo con l'occhio non di quello che è abituato a mangiarle per la sua tradizione culturale sono degli oggetti opalescenti con otto gambe con tipo sette cuori il sangue blu perché è basato sul rame invece che sul ferro il cervello distribuito in varie parti del corpo che perdono i pezzi che continuano a vivere e svariate altre stranezze che hanno diciamo dall'aspetto opalescente e se diciamo sono agitate spruzzano fuori un falso bersaglio nero e dall'odore abbastanza strampalato oggettivamente non sembrano la prima cosa che mangeresti no non è proprio la prima cosa che mangerai effettivamente comunque ce ne sono un miliardo di altre cose strampalate che adesso ti vengo a citare tipo laggis scozzese stomaco di pecora che cos'è laggis scozzese no riempito di interiore di pecora avena spezie bollito vabbè ma questo è geniale scusami che cosa metto in uno stomaco di pecora altro interiore di pecora è una cosa molto saporita e tra l'altro stiamo registrando sabato 25 gennaio stasera in Scozia è la giornata nazionale di mangiare laggis oh che bello quindi in questo momento mentre noi stiamo registrando la gente si sta ingolfando di stomaco di pecora ripieno di altro peccora per ora no ma stasera lo faranno e prima reciteranno una poesia del poeta nazionale scozzese che è dedicata a laggis un tale Burns questo infatti si chiama Burns esiste la poesia dedicata la cena di Burns quanto è folclore in tutto questo gli scozzesi sono un grande popolo infatti odiano tutti gli altri popoli del mondo non a caso fanno bene oppure è un po' come noi per quello che c'è affinità oppure un altro piatto che in realtà quello ho mangiato ero negli Stati Uniti c'era una cena sociale in un ristorante cinese organizzata da un cinese e quindi i piatti erano proprio cinesi cinesi 14 portate c'era la medusa per esempio non sai di mente quella non mi farebbe tanto schifo mi sta un po' di già timoso mi hanno detto dopo che era la medusa io pensavo che fossero lasagnette di non so cosa ma riuscite comunque c'era una insalata con queste cose queste fettine di non si sa cosa che sanno in realtà di molto poco e poi c'erano dei gambri buonissimi ma soprattutto c'era il piatto forte che arriva quando l'hanno messo sul tavolo erano tutti entusiastissimi i cinesi che erano con me tra cui l'organizzatore della cena cioè il cetriolo di mare stufato no che schifo fa proprio un'impressione schifo il cetriolo di mare sì l'odore non è attraente però erano tutti così entusiasti che l'ho dovuto assaggiare ah correndo ah ok beh a proposto l'importante è che una delle cose peggiori che ho mai assaggiato vita mia ok diciamo in giro per il mondo si fanno davvero moltissime cose che a noi appaiono strampalate ma giustamente la relatività si applica anche a quello come mi ha insegnato il collega coreano con le nostre con le nostre seppie certo sì no assolutamente però sai in realtà dipende perché allora io capisco che il gusto non sia oggettivo e va bene nel senso il gusto ovviamente non è oggettivo però se una cosa fa schifo cioè nel senso io mi immagino che l'huggies non faccia totalmente schifo cioè mi dà schifo l'idea ma mangiarlo potrebbe essere come mangiare qualsiasi altro interiore cioè non mi aspetto un gusto diversissimo da una trippa o da un lampredotto o dal fegato anche un po' dominato e invece il cetriolo di mare se tu mi dici che fa proprio schifo ecco un aspetto potrebbe essere un gusto beh ecco sì l'aspetto sì ecco il cetriolo di mare se non l'avete mai visto cari amici è anche definito stronzo di mare è proprio uguale diciamo esatto sì sì è proprio fatto così cioè marrone allungato sì un grosso bruco marrone allungato grosso quanto non so una circonferenza di una mano di un pugno una roba così quindi sì una roba abbastanza schifosetta l'aspetto non è per nulla attraente comunque non dovevamo parlare soltanto di cibi strampalati in giro per il mondo cosa che dovevamo parlare mi ha fatto perdere un sacco di tempo invece di preparare il vero argomento della puntata che era esatto il microonde esatto allora in realtà è stato bello perché tutto questo nasce dalle storie di instagram adesso facciamo un po' di coming out tempo fa qualcuno mi disse vabbè ma tu se fai instagram fai youtube fai podcasting eccetera mica devi parlare di argomenti diversi tanto il pubblico non è mica lo stesso quindi puoi ricicciare gli argomenti di cui hai già parlato anche in altri contesti perché tanto è pubblico diverso adesso scopriremo se è vero esatto quindi in realtà ho parlato qualche giorno fa sul mio profilo instagram di microonde e la cosa ha appassionato tantissimo come funzionano le microonde e ha appassionato talmente tanto che mi sono riappassionato anche io alla cosa quindi pensavo fosse un argomento facile e banale di cui parlare invece è estremamente affascinante quindi come funziona un forno a microonde praticamente è una scatola che poi come insegna il sacro Dario Bressanini non si dovrebbe dire forno no perché in effetti in comune col forno c'è solo il fatto che c'è un vano con uno sportello davanti in cui metti le cose e le cuoci esatto però diventa difficilissimo definirlo perché se tu lo defini sempre il microonde è difficile poi spiegare come funzionano le microonde perché praticamente diventa sempre la stessa parola cioè le microonde nel microonde guida d'onda quadrata per microonde in cui puoi cucinare cose ok guida d'onda quadrata per microonde dove puoi cucinare cose perfetto è una citazione un nome che solo Elio e Storettese potevano inventare esatto infatti e infatti non funziona però noi la useremo in questa puntata visto che l'hai citata quindi come funziona una guida d'onda per microonde dove si cuociono le cose detta anche forno microonde è praticamente una scatola nella quale incredibilmente passano delle microonde le microonde sono onde elettromagnetiche quindi una forma di luce che noi non vediamo ad occhio nudo perché il nostro occhio non percepisce quel tipo di frequenza e anche grazie a Dio perché altrimenti rischeremo di vedere anche tutte le onde radio le onde della televisione sarebbe un po' un casino sarebbe molto figo in realtà perché vedremo un sacco di cose che non vediamo tipo data quando al visore ah giusto non data come si chiama la forge la forge la forge sì questa è una citazione di Star Trek perché adesso sta iniziando a piccare Star Trek piccare quindi facciamo endorsement a qualunque cosa inizi per star esatto cose iniziano per star e quindi le microonde passano all'interno di questa cavità che è dove mettiamo il cibo fondamentalmente e si propagano come se steste lanciando un sasso nello stagno quindi se voi immaginatevi uno stagno una vasca quadrata che voi vedete dall'alto lanciate un sasso le onde iniziano a muoversi avanti e indietro fatto in modo però da essere in fase e da non distruggersi fra di loro perché altrimenti se escono fuori fase le onde che tornano indietro annullano quelle che vanno avanti e poi non serve un tubo si cancellano e quindi non servirebbe tantissimo quindi voi immaginate che nel forno a microonde ci sia una situazione di questo tipo generata tutto da un magnetron che mi piace ma mi piace poco il nome magnetron perché in realtà sarebbe magnetron il nome corretto che però è l'inglese e comunque magnetron mi sembra che sia il nome di un transformer sì comunque il magnetron è una specie di mini acceleratore di particelli di elettroni cioè è una cavità in cui ci sono c'è un filamento che emette elettroni e ci sono dei magneti permanenti sopra e sotto questa cavità che fanno in modo che questi elettroni orbitino all'interno di questa cavità e la cavità diciamo sulla sua superficie esterna ha delle sotto cavità diciamo dei lobby che in qualche modo fanno in modo che la radiazione elettromagnetica emessa dagli elettroni che si muovono facendo una specie di ricamo all'interno di questo spazio di petali si caricano e raccolgono radiazione elettromagnetica a una frequenza che è abbastanza precisa il magnetron è un generatore di onde elettromagnetiche non particolarmente preciso diciamo cioè se dovessimo fare delle telecomunicazioni con un magnetron avremmo qualche problema nel senso che non abbiamo un'onda a frequenza perfettamente determinata coerente in fase e così via creiamo delle onde elettromagnetiche che ci vengono bene per fare determinate cose ad esempio per fare un radar nel senso noi creiamo delle onde che possiamo sparare da qualche parte e vedere l'onda riflessa e i radar per la come si chiama per misurare la velocità anche in determinati paesi sono fatti con un piccolo generatore di microonde per dire non lo sapevo questa cosa qui mi giunge totalmente nuova comunque nei fornetti scusa nei dispositivi a guida d'onda quadrati per la cottura del cibo la frequenza è circa 2,4 gigahertz cioè una dozzina di centimetri la lunghezza d'onda esatto la lunghezza d'onda è circa una dozzina di centimetri e a questo cosa fa sostanzialmente cosa fanno le microonde le microonde interagiscono con le sostanze contenute nel cibo che hanno una determinata che hanno che sono polari quindi le sostanze ci sono le sostanze in chimica la chimica è semplice fondamentalmente ci sono sostanze polari e sostanze non polari cose che puzzano le sostanze polari quasi tutte puzzano esatto in chimica quasi tutte le sostanze puzzano se sono polari o non polari no quelle polari non vuol dire che sono al polo nord o al polo sud ha 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 polare vuol dire che la molecola ha degli atomi che disperdono diciamo la carica degli elettroni quindi gli elettroni non sono equamente distribuiti su tutta la molecola ma ci sono delle zone delle molecole che ha che ha più elettroni di altre zone questo è dovuto al tipo di atomo a come si legano insomma una serie di fattori quindi queste molecole sostanzialmente hanno delle zone che sono un po' più positive e delle zone che sono un po' più negative senza andare a cercare molecole particolarmente strane lo è quella dell'acqua esatto esatto l'acqua è tipicamente una molecola affetta da questa caratteristica ed essendo molto comune nel cibo che noi mangiamo le onde le microonde non fanno altro che mettere in movimento le molecole d'acqua che muovendosi all'unisono all'interno del cibo lo scaldano è un po' come quando vi fregate le mani cioè l'idea è più o meno quella sostanzialmente sì praticamente l'energia delle onde elettromagnetiche viene assorbita dalle molecole polari che vibrano diciamo tra virgolette e quindi assorbono energia trasformandola in energia termica esatto è una trasformazione di energia fondamentalmente da luce a energia termica e quello che succede appunto è che quindi la sostanza che voi state irraggiando il cibo che voi state irraggiando si scalda e rispetto al riscaldamento convenzionale tramite un forno dove il calore è solo all'esterno il riscaldamento è molto più veloce perché se il riscaldamento del forno arriva solo dall'esterno vuol dire che il caldo deve prima scaldare il primo strato immaginatevi una situazione ad Achille la tartaruga in cui scaldate il primo strato poi dovete scaldare un po' quello dopo poi un po' quello dopo tutte le volte che andate in uno strato immaginario più interno all'interno del vostro cibo diventa più difficile perché siete sempre più lontani dalla sorgente del calore che sta solo all'esterno invece le microonde essendo abbastanza penetranti all'interno del cibo riescono a scaldare in maniera quasi uniforme i pezzi di cibo a patto ovviamente di non avere dei pezzi troppo grandi perché in quel caso o le microonde vengono tutte assorbite prima e quindi non arrivate al centro o magari avete l'esterno che è tipo super caldo e l'interno che è un po' meno è un po' meno caldo diciamo che le microonde di loro hanno una penetrazione di circa un centimetro cioè per circa un centimetro quindi se noi avessimo ad esempio un oggetto che è spesso meno di due centimetri ci sarebbe comunque l'entrata di microonde in tutto il volume o meglio l'accessione di energia da parte delle microonde in tutto il volume a patto di essere nel posto giusto nel senso che 12 centimetri di lunghezza d'onda è confrontabile con le dimensioni della cavità del forno quindi all'interno del forno si creeranno delle zone dove effettivamente c'è un'onda elettromagnetica un campo elettromagnetico grande che quindi può cedere tanta energia alle molecole e delle zone in cui invece il campo elettromagnetico sui nodi diciamo dell'onda dove non c'è campo elettromagnetico e quindi non c'è cessione di energia ecco questa roba da spiegare in podcast è difficilissima la lunghezza d'onda è la separazione fra due creste sostanzialmente fra due creste successive ok quindi invece la potenza massima viene data dalle creste fondamentalmente quindi dove ci sono le creste c'è più dove c'è campo elettrico cioè dove ci sono le creste esatto ora noi dobbiamo immaginare che all'interno del forno vengono trasferite le microonde che sono raccolte nel magnetron attraverso una guida d'onda che sostanzialmente è un tubo quadrato non è un oggetto così complicato vengono convogliate verso la cavità del forno che a sua volta ha le pareti conduttrici questo fa sì essendo che le pareti conduttrici riflettono le onde elettromagnetiche queste onde elettromagnetiche quindi sono vincolate a rimanere all'interno della cavità del forno e vanno a distribuirsi in modo tale da avere dei nodi in corrispondenza delle pareti per avere dei nodi in corrispondenza delle pareti devono avere le zone i punti le creste di massima diciamo di massima estensione dell'onda elettromagnetica equispaziate all'interno della cavità diciamo ci sono quindi delle zone dove c'è più densità di energia elettromagnetica delle zone dove la densità di energia elettromagnetica è nulla questo è il motivo perché la maggior parte dei forni hanno il piatto che gira un qualche sistema che in qualche modo rimescola la posizione dei nodi e dei ventri e delle creste per le onde elettromagnetiche cioè magari se io metto una specie di ventola che gira lentamente di specchi in qualche maniera di lamelle di materiale conduttivo scompiglio diciamo tra virgolette le onde elettromagnetiche che evito che ci siano delle zone in cui c'è tantissima energia e zone in cui ce n'è zero ed è così che funzionano i forni a microonde non a piatto rotante quindi quelli che non hanno sostanzialmente il cibo non gira c'è un esperimento interessante che avevo fatto ed era quello di utilizzare del parmigiano grattugiato cioè del formaggio grattugiato tendenzialmente il parmigiano funziona bene messo in un in un recipiente abbastanza ampio da coprire non dico tutta la cavità ma buona parte della cavità del microonde e togliere il piatto rotante e poi accendere il microonde per qualche secondo in quel caso si vedono proprio che ci sono dei punti dove il formaggio si fonde e dei punti dove il formaggio invece non si fonde e la cosa bellissima è che se misuriamo la distanza fra i due punti fusi circa siamo a 6 cm beh non è un caso perché non è un caso perché a metà tra la cresta e un'altra cresta ci sono dei punti dei punti freddi un'altra cosa che va detta è che ci sono tantissime cose che si possono dire sul forno a microonde una è in realtà non del tutto ovvia normalmente nel forno a microonde uno può regolare la potenza di fatto uno non regola la potenza ma regola il duty cycle cioè il magnetron funziona sempre alla stessa potenza se io abbasso la potenza del forno il sistema accende e spegne le microonde ah ok è come il sistema defrost che funziona accendendo e spegnendo le microonde esattamente e questa cosa in realtà è molto più utile di quello che non sembra cioè molto spesso noi per la fretta cose eccetera eccetera usiamo il forno a microonde per fare qualcosa molto rapidamente però il fatto di avere questa questo riscaldamento localizzato più intenso e questa lunghezza di penetrazione limitata a circa un centimetro fa sì che se noi usiamo una potenza troppo elevata abbiamo riscaldamento localizzato comunque il riscaldamento è legato dicevamo prima al riscaldamento dielettrico cioè questa questa perdita di energia elettromagnetica in un dielettrico questo effetto è dipendente a sua volta dalla temperatura cioè se noi prendiamo un pezzo di qualcosa di congelato e lo mettiamo nel forno a microonde un blocco di parmigiana di melanzane congelata ok mi sembra un esempio perfetto lo mettiamo nel forno a microonde e accendiamo il microonde se noi non facciamo se noi facciamo le cose in maniera troppo veloce rischiamo di avere delle zone dove si scongela e inizia a scaldarsi mentre in altre zone è ancora congelato questa cosa la risolviamo appunto modulando la potenza in questo modo il calore ha il tempo di distribuirsi per conduzione proprio nella maniera più tradizionale per conduzione all'interno del cibo se non lo facciamo abbiamo un problema diciamo che si chiama thermal runaway in inglese cioè fuga termica in qualche modo fuga termica vorrebbe dire che noi abbiamo delle zone dove si scalda la capacità di assorbire onde elettromagnetiche aumenta nelle zone più calde e quindi si scaldano sempre più rapidamente questa cosa succede quando noi ad esempio scongeliamo una fetta di carne è una cosa che succede diciamo abbastanza spesso se noi abbiamo la fetta che si assottiglia da qualche parte nel punto dove si assottiglia vediamo che praticamente cuoce a causa del thermal runaway c'è una specie di come posso dire una specie di concentrazione di energie in quel punto e in quel punto la temperatura va rapidamente a crescere oltre quello che noi vogliamo veramente diciamo esatto perché inizia a cuocere invece solo di scongelare ci sono alcune cose che vorrei dire sul microonde a proposito della sicurezza perché tanto nessuno legge mai le istruzioni perché il microonde è diventato un oggetto talmente comune che nessuno legge più le istruzioni cioè sarò mica scemo a non sapere come si usa un microonde e invece come per tutto come anche per un forno qualsiasi o per il fornello sarebbe bene conoscere come funziona lo strumento proprio per evitare di fare delle cavolate sarei sorpreso di sapere che un sacco di gente mi ha detto che mette molto spesso il microonde acceso vuoto perché magari ha dei microonde un po' vecchi che non hanno un sistema di sicurezza di peso per esempio il mio ha un sistema di peso sul piatto rotante e quindi se io ce l'ho vuoto quindi il piatto rotante ha peso zero il microonde non si attiva ci sono molti i microonde un po' meno costosi del mio magari proprio bassa bassa fascia che se tu li richiudi quando il timer non è arrivato a zero loro ripartono fino a che il timer non arriva a zero e molta gente lo lascia andare lascia andare a esaurimento questo è pericoloso totalmente vuoto e questo è pericoloso perché i microonde non schermati le onde elettromagnetiche risalgono la guida d'onda e possono colpire il magnetron e distruggerlo e quindi danneggiarlo distrugge esatto perché i metalli questa è un'altra cosa i metalli soprattutto quelli di forma non arrotondata tendono a a scintillare cioè sulle punte si creano delle concentrazioni di microonde che scintillano adesso c'è un fisico che dirà esattamente che cosa vuol dire questa mia definizione stupida di si formano delle concentrazioni di microonde ma sarà una cosa tipo effetto punta praticamente sì e quindi è come appunto se si concentrassero lì le microonde e quindi c'è una scintillazione se la cosa finisce sul magnetron vi scintilla il magnetron e potete prendere e buttare il forno a microonde sperando che non succeda di peggio cioè che non si incendi che non ci siano corti circuiti a quel punto lì diciamo il danneggiamento può portare a delle conseguenze anche gravi esatto quindi mai il microonde vuoto se avete una sostanza che assorbe molto poco le microonde tipo non so magari piccolissime quantità di cibo il consiglio è di mettere sempre da qualche parte all'interno del microonde un bicchiere d'acqua o cibi molto asciutti esatto magari cibi molto asciutti ecco potete mettere un bicchiere d'acqua da qualche parte in giro nel microonde anche in una cioè basta che sia all'interno della cavità e in quel caso il bicchiere d'acqua fa da punto di sicurezza per assorbire le microonde che non arrivano sul magnetron un'altra cosa che non bisogna fare è accendere il microonde con lo schermo aperto con lo sportello aperto so che non succede ma magari dovuto a un guasto o per un qualsiasi motivo le microonde come dicevi giustamente tu Andre sono confinate all'interno della cavità e non escono dal vetro perché il vetro ha una reticella sopra fatta tipo gabbia di fara dai fondamentalmente per evitare che fatta di una dimensione giusta tra l'altro i buchini sono di una dimensione pensata per evitare che le microonde escano se voi togliete la griglia vi cade lo sportello di vetro lo sportello rimane aperto le microonde possono uscire e in quel caso a parte che rovinate la risonanza all'interno della cavità quindi già la cavità non è più come era prima e quindi non funziona bene come prima ma in più io non vorrei avere un mio occhio vicino a delle microonde che escono da un forno è vero che si disperdono molto rapidamente però l'occhio è proprio una delle parti più sensibili perché diciamo i fluidi che sono dentro l'occhio hanno la stessa tendenza alla degenerazione proteica del bianco d'uovo ad alta temperatura quindi diciamo l'esposizione a microonde in grossa quantità può portare a cataratta questo esatto quindi la cosa più comoda è quando voi avvicinate la faccia al microonde siete sicuri perché c'è quella griglia che vi protegge e il vetro che vi protegge in caso di microonde danneggiato è meglio sostituirlo poi onestamente ormai non costano nemmeno più tante microonde quindi non fate i genovesi non fate gli scozzesi esatto no come si dice va bene più o meno questo era quello era tutto quello che volevamo raccontarvi io ho fatto anche un esperimento con l'uva in realtà ho fatto un paio di cose una è il fatto che le microonde siano più o meno salutari le microonde dicevamo sono a 2.45 gigahertz che è sostanzialmente la stessa frequenza di una delle due bande del wifi il wifi esiste a 2.4 e a 5 gigahertz c'era un ragazzo su instagram che mi ha detto che quando accende il forno a microonde gli si disconnettono tutti i dispositivi wifi io cambierei forno anch'io perché può voler dire che c'è una perdita di microonde verso l'esterno che va a interferire con con il wifi che è lì abbastanza vicino oppure metto tutta roba che viaggia a 5 gigahertz che è anche più veloce quindi insomma e però mi cuocio da solo dal punto di vista della salute giustamente Simone come posso dire sottolineava il fatto che di fatto la cosa più pericolosa è che ci sia per qualche danneggiamento fuori uscita di microonde che però sono radiazioni non ionizzanti quindi in realtà a differenza dei raggi X o dei raggi gamma non creano direttamente danno a livello cellulare il danno che portano è un danno di tipo termico cioè possono provocare bruciature possono provocare come come dicevo poc'anzi agli occhi dei problemi che c'è un'accelerata insorgenza di cataratta o cose di questo genere però di fatto sono radiazioni non ionizzanti quindi non fanno venire il cancro questo è va ripetuto per la centesima per dire i raggi gamma sono quelli che hanno una lunghezza d'onda inferiore a 2 miliardesimi di metro i raggi X no a 0.02 miliardesimi di metro i raggi X inferiore a 10 miliardesimi di metro gli ultravioletti fino a 400 miliardesimi di metro il visibile da 400 a 750 miliardesimi di metro poi l'infrarosso arriva fino a 1 millimetro e le microonde fino a 1 metro tra un millimetro e un metro diciamo grosso modo poi ci sono le onderadi si parla di una bella tra millesimi di metro a scusami miliardesimi di metro tra miliardesimi di metro a centimetri tipicamente le microonde sono centimetri e ci sono per tante cose sia per appunto l'uomo wifi per la come si chiama la tv digitale la navigazione satellitare usa due bande a 1.2 e 1.6 GHz quindi insomma tante microonde sono utilizzate a livello industriale e sono quello che fa davvero la differenza è la potenza diciamo la potenza di un access point wifi è dell'ordine del millivatt la potenza di forno a microonde è dell'ordine delle centinaia di watt quello ovviamente fa la differenza c'è stata anche un medico Eleanor Adair qualcosa del genere che ha fatto degli esperimenti di esposizione diretta alle microonde su se stessa anche e dice l'unica cosa che succede è fondamentalmente la come posso dire la un senso di riscaldamento e al limite una bruciatura questo è l'unica l'unico effetto veramente collaterale delle microonde col microonde diciamo a livello sempre facendo discorso sulla salute quello che prima parlavamo della cottura non omogenea che può essere un qualcosa di seccante dal punto di vista del risultato che noi abbiamo può diventare un problema di salute qualora stessimo cuocendo dei cibi che hanno bisogno di arrivare ad una certa temperatura per essere sicuri come ad esempio la carne di pollo la carne di pollo non va mai mangiata se non è perfettamente cotta e quindi il microonde non è proprio il massimo va usato con criterio il microonde è eccezionale perché per altri come si dice per altre sotto altri punti di vista il fatto che non porti il cibo a temperature troppo elevate ha degli effetti positivi su alcune su alcune come posso dire sulla formazione di alcune sostanze cancerogene ad esempio sui cibi quando noi esponiamo a temperature troppo elevate voglio dire il bruciatino della carne cotta troppo è potenzialmente cancerogeno queste formazioni carboniose sono potenzialmente pericolose questo diciamo il forno a microonde essendo che ha una temperatura che tipicamente non è raggiunta perché io porto un qualche corpo a una temperatura molto elevata e uso questo corpo a temperatura molto elevata per scaldare il cibo ma scaldo il cibo direttamente andando ad agire sulle molecole che lo compongono tipicamente non fa arrivare le temperature molto oltre i 100 gradi e quindi difficile più creare le bruciature quindi si perde un po' di sapore e si guadagna un po' più in salute per certe cose non tutto nel senso che per esempio le patate nelle patate non si produce l'acrilamide che è l'acrilamide non pronunciarlo alla fisica le cose mali e vabbè insomma quella roba lì che non credo sia una cosa particolarmente edificante salutare edificante ma in compenso la cottura delle patate distrugge eventuali residui di solanina quando le patate la cottura quella standard dici non perfettamente sottoterra che hanno la buccia parzialmente verde questa buccia parzialmente verde è sintomo anche del fatto che la patata conterrà una quantità di solanina che è un alcaloide tossico che quasi tutte le solanacee cioè pomodori patate melanzane hanno nelle foglie le patate ce l'hanno pure nelle patate le patate ne hanno una piccola quantità anche nella patata nel tubero e la cottura distrugge la solanina quindi ad alta temperatura quindi forno a microonde se noi facciamo una cottura forno a microonde di patate non otteniamo una distruzione completa della solanina potremmo non ottenere una come si dice una distruzione totale della solanina una degradazione quindi quello che io consiglio è se volete fare delle ottime patate arrosto prima le fate cuocere 6 o 7 minuti nel forno a microonde e poi finite di cuocere in padella con opportuna aggiunta di grassi vegetali animali mi sembra un ottimo suggerimento bene direi che abbiamo fatto tipo mezz'ora di racconto su come funziona il microonde speriamo di avervi spiegato un po' meglio come funziona però vi hai detto che avresti detto qualcosa anche sull'uva si e non vorrei sbrodolare troppo su questa cosa comunque l'uva nel microonde fa del genere tipo un plasma che fluttua per il microonde ma vi distrugge il microonde nel senso che io l'ho provato dipende dal modello del microonde ma tipo il mio vi garantisco che dopo 3 secondi puzzava di bruciato il magnetron quindi che meraviglia quindi no meglio non farlo non provateci a casa in realtà non dovete fare cioè non bisogna mettere un acino due bisogna mettere un acino tagliato in due esatto lasciando una pellicina che congiunge le due metà ci sono dei fisici che hanno spiegato questa cosa e a me non convince per nulla però io me ne sto perché hanno pubblicato e soprattutto perché poi funziona e soprattutto perché funziona no allora che funzioni funzioni funziona quello che non mi convince la spiegazione che loro danno che se tu siccome l'acino d'uva è circa di un centimetro un centimetro e mezzo più o meno si riscalda tutto dall'interno perché quello che loro dicono è che la composizione particolare dell'uva permette alle microonde una volta entrate di rimbalzare un po' come succede nella cavità del forno a microonde e quindi si scaldano dall'interno e progressivamente verso l'esterno se voi dividete a metà un acino d'uva praticamente il punto di congiunzione quel filino di pelle che congiunge i due acini d'uva di fatto fa sì che le onde elettromagnetiche si concentrano le microonde si concentrano lì nella giunzione e quindi quella giunzione in quel punto faccia un po' l'effetto punta dei metalli e quindi si raggiungono temperature talmente alte da trasformare in plasma l'aria circostante e boh comunque l'ho visto succedere anche io no l'ho visto cioè l'ho fatto io varie volte anche con un forno a microonde in dipartimento però boh nel senso perché perché le onde elettromagnetiche si dovrebbero concentrare lì boh perché è una punta perché non si chi mi dice che lì c'è un una cresta dell'onda e non c'è un punto di zero visto che ma in effetti non funziona tutte le volte devi metterlo nel posto giusto beh vabbè non lo so mi convince fino a un certo punto comunque insomma di fatto io devo ancora riprovare a accendere il mio microonde perché secondo me quella puzza di bruciato non era non era tanto non era un buon segno però esatto io conto che funzioni ancora lo provarò stasera vi farò sapere nella prossima puntata ottimo va bene direi che possiamo avviarci verso la conclusione di questa puntata allora come sempre d'inverno non abbiamo impegni nel senso che non abbiamo impegni mondani anche se ma non è del tutto anche se in realtà esatto verso marzo ci sarà FameLab da febbraio da febbraio qual è che inizia? ah ci sono prima le selezioni la seconda delle città le preselezioni la prima città è Genova 11 e 12 febbraio quindi collaboreremo con i vari sono aperte al pubblico le preselezioni 13 febbraio dipende a città a Genova per esempio è aperta al pubblico la finale del 26 febbraio in certe città vanno direttamente e fanno una sola giornata che può essere Perugia il 13 marzo l'Aquila il 5 marzo Trieste il 20 febbraio Ancona il 5 marzo che presumo siano aperte al pubblico comunque c'è sul sito di FameLab Italia FameLab-Italy.it trovate tutta la descrizione di tutte le diciamo di tutto l'evento io sarò invece a Pavia il 5 e sarò giudice della serata di Pavia ah io invece sono giudice della semifinale benissimo vedi quindi insomma ci vedrete lì in giro se volete partecipare informatevi su quali sono le serate aperte al pubblico le giornate aperte al pubblico partecipate perché è un bellissimo punto dove potete incorciare magari dei prossimi grandi divulgatori dei prossimi Pieri Angeli se volete soprattutto se volete come si dice se volete partecipare cioè se siete persone nate diciamo che hanno all'incirca tra i 22 e i 40 anni che sono o studenti degli ultimi anni di università studenti di dottorato giovani ricercatori laureati in facoltà scientifiche che in qualche modo lavorano in research and development e non siete già giornalisti o divulgatori scientifici di professione potete anche partecipare come concorrenti ed è una cosa figa bella divertente bene sono contento raccontare una roba in tre minuti ovviamente io e Simone saremo pessimi a raccontare in solo tre minuti per questo facciamo i giudici perché non saremmo in grado di stare sul palco senza dubbio ma è molto divertente giustamente tra i vincitori degli anni passati c'è proprio Luca Perri e anche Ilaria tra l'altro Ilaria Zanardi Federico Baglioni aveva partecipato in passato che è un altro che lavorava alla Rai cioè insomma c'è è stato il trampolino di lancio o diciamo uno dei trampolini attraverso cui sono stati lanciati anche dei personaggi che insomma stanno un po' riscrivendo la divulgazione scientifica in Italia quindi è davvero un'occasione davvero interessante bene sono contento di partecipare che scientifica spartecipi da anni quindi mi raccomando seguite l'evento dopodiché dobbiamo ringraziare tutte le persone che ci sostengono e ci ci hanno sostenuto questa settimana in particolare Maristella M Marco L Mochi A e Alessandro G in particolare Maristella ci scrive ciao vi ascolto sempre tramite podcast grazie per il lavoro che fate per il tempo che è dedicato alla divulgazione Maristella io ti chiederei se non ci ascolti sempre tramite podcast come altro avresti mai potuto ascoltarci di nascosto con delle micro esatto infatti era quello che stavo pensando mi sembrava un po' inquietante ecco chi era quella persona che era attaccata al muro mentre stavamo registrando va bene devi dare i contatti Andre devo dare i contatti noi al solito ci trovate su tutti i social più importanti quindi Instagram Twitter Facebook ci trovate a info chiocciolasidentificast.it www.sidentificast.it trovate tutto tutto quello che produciamo sia il podcast che il blog e telefono il mitico telefono a cui potete mandare Whatsapp si che accendo una volta ogni due mesi perché tanto c'è Telegram Simone potete scriverlo su Telegram 389 259 6538 e poi soprattutto il canale Telegram dove la discussione è sempre fervente gli utenti collegati sono più di 650 e tra le altre cose si parlava proprio oggi di cibi cibi spaventosi esatto va bene noi vi diamo appuntamento allora direi a settimana prossima io ci sono mi pare che il calendario preveda che io ci sono e comunque ci vediamo mercoledì sera alle 21.30 su Twitch canale Science Stream per il resto per tutti quelli che invece non ci sono su Twitch ci vediamo ci sentiamo con me settimana prossima con Andre tu hai idea di quando ci sarai? no 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 lo scopro sempre gli ultimi due giorni nel senso che la programmazione è molto più a lungo termine ma io poi me la dimentico con grandissima efficienza va bene ci vediamo presto allora ciao 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 ciao